La funzione sociale sportiva del sistema canottieri per il territorio cremonese e il loro modello di business con un focus sulla sostenibilità oltre all'incontro con sportivi delle nazionali e la realtà della Sanse Basket molto attiva nel sociale con il progetto Giovani Smart. Questi alcuni dei temi trattati nel corso della giornata cremonese degli studenti e docenti del Master in Sport e Intervento Psicosociale dell'Università Cattolica di Milano. Si tratta di un Master di secondo livello con iscritti con laurea magistrale che dopo un percorso di 1500 ore e 300 di stage aspirano a trovare una collocazione lavorativa presso società, federazioni, enti di promozione sportiva. Stamattina alla Bissolati abbiamo parlato del sistema delle canottieri da un punto di vista sociale, da un punto di vista organizzativo e da un punto di vista sportivo. Oggi ci troviamo qui in questa magnifica location dell'Università Cattolica perché abbiamo dato attraverso il professor Antoldi una continuità un poco più di tipo aziendalistico al futuro delle nostre canottieri e poi perché con gli amici della Sanse Basket stiamo in questo momento apprendendo un loro grosso progetto che riguarda appunto tanti giovani in condizioni di difficoltà che hanno trovato degli sbocchi socialmente utili e importanti attraverso appunto la pratica sportiva. Qual è il valore aggiunto di questa giornata? Hanno appreso come si possa utilizzare lo sport da un punto di vista sociale e attraverso le canottieri anche da un punto di vista economico. Grazie a tutti.